buon pomeriggio a tutti è domenica è l'otto di luglio come vedete oggi indosso una camicia rossa naturalmente perché ieri non siamo andati non sono stato in in diretta facebook e quindi volevo assolutamente recuperare e diciamo fare la mia parte e quindi fare questa diretta vestito come si deve ricordando quali sono le cose importanti aderendo secondo me a quella che è stata un'iniziativa molto rilevante devo dire anche se poi online in rete qualcuno ha cercato di diminuirne la portata io penso che sia stata una bella cosa è che abbia riacceso una luce su un tema che è fondamentale la nostra umanità della quale non dovremmo dimenticarci mai e per questo in realtà voglio cominciare questa diretta ricordando Sandro Pertini oggi sono 40 anni dalla sua elezione è stato un grandissimo presidente della Repubblica è stato un uomo che ha saputo unire l'Italia sotto diciamo riaccendendo il prestigio delle istituzioni ci ha avvicinati a un'istituzione più democratica più vicino al popolo la presidenza della Repubblica prima sembrava un'istituzione molto remota Pertini la portò a livello di ciascuno di noi ce la fece sentire vicina fu il presidente che stette accanto gli italiani in momenti difficilissimi penso in particolare la strage di Bologna al terremoto in Irpinia ricordate la vicenda poi di Alfredino Rampi che ebbe una grande visibilità mediatica ma ricordo anche quelli della mia generazione non possono sicuramente dimenticare la presenza di Pertini al Santiago Bernabeu di Madrid quell'11 luglio del 1982 io avevo 17 anni credo sia stata la mia prima sbornia della vita ma insomma ero tra l'altro all'estero quindi diciamo quando sei fuori l'italianità la senti ancora più forte va bene in realtà l'impegno di questa domenica era quello di parlare soprattutto dell'assemblea del PD lo faccio subito non prima di avervi chiesto come al solito di piggiare sulla freccetta e condividere questa diretta e naturalmente poi il video resterà online sul mio sito imanscalfarotto.it e anche su youtube e naturalmente sulla pagina facebook dalla quale mi state guardando in questo momento assemblea del PD di ieri partirei dalla fine quindi come è andata a finire abbiamo eletto Maurizio Martina segretario ufficialmente e si è deciso che il congresso del partito si terrà entro le europee quindi prima dell'europea avremo un nuovo segretario eletto con le primarie se posso dire la verità alla mia opinione era quella di andare invece al congresso più presto possibile fosse stato per me sarei andato al congresso anche a settembre perché penso che il partito debba ripartire e debba ricominciare da subito insomma non avrei aspettato sicuramente non sarei arrivato al prossimo all'autunno del 2019 o a date ancora più lontane però capisco che prevalsa un'altra linea e a questa minchino capisco anche la sua ragionevolezza la ragione per la quale si è preso questo tempo in più è quella di dire probabilmente deve essere un congresso straordinario deve essere un congresso che cambia anche le regole non deve essere soltanto una conta diciamo tra questo e quel candidato ma deve essere un congresso forse che rimette mano anche allo statuto che cambia le regole e quindi probabilmente ci vorrà una fase iniziale appunto di revisione del procedimento elettorale e anche di discussione proprio delle piattaforme programmatiche poi si può andare in tempo per le elezioni europee all'elezione del nuovo segretario va bene così l'importante avere una data quindi sappiamo che grosso modo nel mese di febbraio voteremo per un nuovo segretario detto questo l'assemblea è stata aperta da Matteo Renzi la ragione qualcuno si è chiesto perché ma c'è una ragione diciamo così statutaria quando il segretario in carica si dimette diciamo la comunicazione di queste dimissioni non è quella che viene fatta in televisione diciamo così o in conferenza stampa ma è un atto formale che viene fatto davanti all'assemblea il segretario viene eletto in assemblea e quindi è all'assemblea che rimette le sue che rimette le sue dimissioni io dico subito che a me la relazione di Renzi è piaciuta moltissimo Renzi ha confermato ancora una volta di essere un personaggio col carisma di essere una persona dotata di una leadership straordinaria ha fatto un ragionamento che come al solito poi questa mattina i giornali hanno raccontato per due battute su 40 minuti di discorso ma in realtà i 40 minuti di discorso sono stati 40 minuti di discorso alto io penso politicamente impegnativo Renzi ha detto delle cose importanti sui grandi temi che stiamo attraversando sui rapporti internazionali sul governo in carica sui nostri rapporti tra appunto i rapporti tra partito democratico e gli altri partiti è stato un discorso impegnativo si è assunto la responsabilità ha detto mi rimetto ovviamente ha fatto un'analisi del voto speriamo tra l'altro l'ultima nella quale ha spiegato quali sono state le cose che non sono andate e io penso che fosse giusto e legittimo da parte sua dirlo qualcuno si è sentito attaccato ecco io ho un carattere diverso e quindi tendo a essere forse un po' più rotondo nei toni poi non sono toscano e quindi diciamo Matteo come succede spesso ai toscani la battuta se ce l'ha non se la perde però al di là appunto di queste note di colore che poi ripeto sono diventate oggetto dell'analisi politica di questa mattina io penso che sia stato un discorso alto importante che ho condiviso in larghissima parte diciamo totalmente e penso che abbia riconfermato la statura di Matteo Renzi come di un personaggio politico determinante in questi nostri giorni questo è fuori discussione poi può piacere non può piacere capisco che a molti evidentemente non piace a molti soprattutto tra gli osservatori e i commentatori perché poi credo che tra la gente piaccia ancora moltissimo e quindi direi di non ridurre come al solito le descrizioni di quello che accade nel PD a una macchietta chi non ha visto quel discorso io penso lo possa rivedere utilmente c'è una linea politica forte, chiara, netta alla quale io sinceramente lo dico aderisco e che sarà una linea presente nel congresso adesso questo è un punto che voglio dire con molta chiarezza vengo definito Renziano ma io non è che sono Renziano perché sono amico di Renzi sul piano personale io mi sono avvicinato a Matteo Renzi perché condivido le sue idee e penso che anche adesso che lui non sarà più il segretario nel prossimo congresso quelle idee debbano essere presenti non sono le idee solo di Matteo Renzi sono le idee diciamo così riformiste sono idee liberal-democratiche come vogliamo chiamarle sono idee che rappresentano un filone politico-culturale molto importante nel nostro paese che io penso dovrà essere presente al congresso essere rappresentato con un nuovo candidato segretario o candidata segretaria e far parte della discussione all'interno del Partito Democratico poi ha parlato Maurizio Martina quindi il segretario che è stato eletto appunto alla carica è stato un discorso naturalmente tutto chiamato all'unità Martina ha fatto la diciamo così la metafora utilizzato la metafora dell'orchestra che viene quindi una musica che viene fatta da orchestrali che suonano strumenti diversi e che messa insieme diventa un tutto armonico e quindi non ha negato le differenze ma ha sostenuto nonostante le differenze dobbiamo lavorare insieme io capisco che sia la linea più giusta penso che Martina debba avere un ruolo di garanzia nei mesi che ci porteranno a questo congresso capisco anche la difficoltà del suo ruolo perché in questo momento pur essendo stato votato da tutti in realtà Martina non è il segretario tra virgolette di nessuno perché certamente non può essere annoverato tra virgolette tra i renziani pur essendo stato il vice segretario di Renzi perché ha assunto un profilo del tutto autonomo da quando è diventato il reggente del partito faccio l'esempio recentemente ci sono state da parte di Martina delle aperture serie nei confronti per esempio di Bersani che io dubito sarebbero condivise nel mondo più vicino così a Matteo Renzi anche oggi Martina ha criticato Renzi in modo piuttosto importante lo vedete sulle home page di tutti i siti giornalistici italiani quindi sicuramente non è il candidato renziano diciamo il segretario renziano ma mi pare non sia neanche il segretario dell'altra parte del partito che ha già individuato in Nicola Zingaretti il loro candidato addirittura oggi leggevo che si pensa anche a una candidatura di Gianni Cuperlo quindi probabilmente Martina non sarà candidato a nome diciamo di nessuno dei gruppi delle aree politiche che vivono nel partito democratico quindi questo lo metterà in una situazione secondo me ottima per essere un po' il garante di tutti ma naturalmente dovrà conquistarsi l'appoggio di tutte le varie anime con un lavoro molto paziente e quindi capisco un lavoro difficile hanno parlato poi naturalmente gli oppositori in particolare Gianni Cuperlo, Andrea Orlando, Francesco Boccia sono oratori delle nostre assemblee intervengono sostanzialmente in tutte le assemblee quindi diciamo il controcanto le loro tesi giustamente vengono esposte in ogni assemblea li abbiamo sentiti anche ieri devo dire dipingono un partito molto molto diverso da come l'abbiamo conosciuto è una linea politica completamente diversa dalla linea che ha avuto il partito sotto le segreterie di Renzi ecco quello che però a me sempre un po' stupisce è che questa linea politica che Andrea Orlando o Francesco Boccia illustrano durante le assemblee non sono linee politiche diciamo così nuove del tutto innovative sono la linea politica, le linee politiche di Orlando e di Emiliano che sono state oggetto del congresso del 2017 congresso del 2017 che però Renzi con la sua piattaforma ideale programmatica e politica ha vinto col 70% quindi non si tratta di come dire idee che non abbiamo mai discusso all'interno del partito o di idee che adesso a seguito della sconfitta elettorale arrivano all'attenzione del partito sono posizioni note rappresentate all'interno del partito da sempre e che sono uscite sconfitte tanto dal congresso del 2013 che dal congresso del 2017 quindi sentirli parlare sembra sempre che Matteo Renzi sia stato una sorta di usurpatore uno che ha dirottato un aeroplano e lo ha portato verso una destinazione sconosciuta e così non è stato questo va detto chiaramente la linea politica che Matteo Renzi ha perseguito negli anni è stata una linea politica sottoposta alla discussione congressuale sottoposta al voto degli iscritti sottoposta al voto degli elettori che ha stravinto in entrambi i casi nel 2013 e nel 2017 quindi io comprendo che si voglia dire col nuovo congresso viriamo nettamente verso una sinistra più tradizionale è una posizione legittima quello che io non trovo legittimo sia quello di sia il fatto di indicare queste idee come fossero idee che non sono già state considerate e respinte dalla comunità del partito democratico ora se la comunità del partito democratico nel congresso del 2019 vorrà farle diventare maggioritarie nuovamente bene però parlare in assemblea dicendo cose descrivendo diciamo così una situazione come se Renzi avesse imposto usurpando diciamo un ruolo una linea politica piovuto dal cielo ecco quello mi sembra un po' meno corretto e mi sembrava il caso di dirlo anche in questa sede quindi che cosa succede adesso cosa fare adesso io penso innanzitutto che dobbiamo fare un punto e questo è in via preliminare sulla civiltà dei rapporti all'interno del partito cioè quello che deve essere chiaro è che intanto il partito democratico può esistere se noi decidiamo che la linea uscita dal congresso poi verrà rispettata appunto come la linea politica del partito cioè non si può negare e chi critica il discorso di Renzi ieri non so come faccia a negarlo che ogni qualvolta appunto Renzi abbia vinto legittimamente la competizione per guidare il partito poi il partito è stato una babele incontrollabile cioè ognuno ha detto tutto il contrario di tutto e anche il nostro elettorato è stato del tutto spiazzato è stato si è sentito spaisato perché la linea del PD non si capiva mai qual era allora la prima cosa da dire è se questa è una comunità ci sono delle regole che governano la comunità quindi si farà il congresso però chi perde il congresso poi accetta che la linea vincitrice è quella che si porta avanti altrimenti diciamo così non ha senso perché guardate le linee politiche sono molto divaricate questo va detto il partito che descrive Francesco Boccia è un partito nel quale io faccio un po' fatica a ritrovarmi anche in quello di Andrea Orlando oggi Andrea ha risposto su Twitter a una persona dicendole non ti devi vergognare perché sei ricca mi sembra una roba strana diciamo così io sono rimasto a Olof Palme che diceva sempre che la sinistra non deve combattere la ricchezza deve combattere la povertà cioè quello che noi dobbiamo fare è combattere la povertà non prendercela con chi eventualmente è abbiente noi dobbiamo parlare a tutta la società e fare in modo che la società prosperi ora dire a una persona che ti scrive su Twitter non ti devi vergognare perché sei ricca mi sembra un linguaggio non solo umanamente anche politicamente non mi ci riconosco ecco la dico la dico come stanno le cose poi io penso che la seconda cosa da fare quindi recuperare civiltà dei rapporti la seconda cosa da fare è quella di rafforzare il partito proprio come strumento ecco se devo dire un limite che c'è stato in questi anni me ne assumo anch'io la mia quota di responsabilità il partito è stato molto indebolito in alcune zone del paese non esiste o peggio esiste e funziona male o peggio esiste e funziona in un modo nel quale devo dire io non mi riconosco un partito chiuso un partito dove è difficile ottenere una tessera in molte regioni d'Italia se si va al partito democratico e si dice vorrei scrivermi ti dicono chi ti manda ecco questo non è il partito che mi immagino io penso che soprattutto in questa fase tante persone si vogliono avvicinare il partito democratico vogliono mettersi a disposizione per combattere questo governo fascio leghista o grillista che abbiamo e vorrebbero poter entrare in questa comunità questa deve diventare una comunità aperta e ben funzionante io penso che questo sia fondamentale inclusiva ed efficace e quindi bisogna mettere mano al partito sicuramente e poi sulla linea politica io come ho detto resto renziano io continuo a pensare che noi dobbiamo investire non sulle divisioni non sulle paure non sulle angosce del paese ma sui suoi elementi di forza noi dobbiamo credere in un'Italia grande forte in un'Italia che produce eccellenza dobbiamo quindi come dire puntare sul nostro talento ovviamente ricordandoci degli ultimi ricordandoci dei più deboli ma noi dobbiamo puntare sulla crescita dobbiamo puntare sulle nostre esportazioni dobbiamo dobbiamo investire sul futuro questo Renzi l'ho detto ieri io sono d'accordissimo e da voglio dire gli amanuenzi avevano paura della stampa di Gutenberg diciamo il progresso tecnologico ha sempre fatto paura ma investire sul progresso umano è quello che fanno i progressisti ci chiamiamo progressisti perché crediamo nel progresso allora davanti a chi come Salvini Di Maio la Meloni investono sulle paure degli italiani noi dobbiamo fare esattamente il contrario questo è ciò che fa di me un progressista e questa è la linea politica che porterò avanti non una politica che investe sulle divisioni tra gli italiani i ricchi di qua i poveri di qua gli imprenditori da un lato i lavoratori dall'altro i vecchi i pensieri quindi gli anziani che hanno le pensioni con i giovani che sono precari dall'altro e puntando sulle divisioni ma dovremmo fare il contrario puntare sull'unità dare la possibilità a chi può volare di farlo e stare dietro sostenere chi invece non ce la fa questo io penso sia il compito della sinistra e questo è ciò che vorrò rappresentare con le persone che lavoreranno con me e con le persone che la pensano come me durante questo congresso questo è il partito democratico che mi ha in mente un partito democratico civile nei rapporti aperto ed efficace e che lavori appunto su un'Italia che conta nel mondo che cresce che crede in se stessa e che non ha paura io mi fermo qui domani sarò in diretta credo intorno alle 15.30 ve lo confermerò poi durante la giornata ma credo che quella sia l'ora giusta 15.30 vi ricordo sempre di condividere questo video vi auguro ancora buona domenica e l'appuntamento è a domani ciao